Credo che tutti quanti noi abbiamo vissuto la giornata di ieri come un momento nel quale l'Unione Europea manifestava, manifestato anche con le tensioni che si sono prodotte tra i capi di Stato e i vari governi fino a poche ore prima della riunione del Campidoglio quando non si sapeva se tutti sarebbero stati presenti, se Tsipras potesse o meno dare forfè in segno di protesta, se la Premier polacca segnasse il punto ovviamente da una posizione diametralmente opposta nel tentare di boicottare perlomeno da un punto di vista di immagine questa ricorrenza. Poi è ovvio che la ragione di Unione in qualche modo ha fatto giustizia di questi piccoli capricci e in realtà tutti quanti si sono poi precipitati con qualche malumore in volto in Campidoglio per firmare un documento che come era del tutto prevedibile non dice assolutamente nulla se non che le cose continueranno come sono andate avanti fino adesso. e cioè con un'Unione Europea che continuerà ad essere l'Unione Europea della finanza, delle banche, dei padroni un'Unione Europea che sarà un'Unione di Stati coordinati nella loro battaglia contro o meglio forse nella loro guerra contro le classi popolari, in particolar modo le classi lavoratrici con un'Unione Europea che naturalmente vede come primo bersaglio della propria azione i migranti e i rifugiati che sempre con più difficoltà possono sperare dopo la sceneggiata della Merkel che abbracciava i migranti un paio di anni fa o meglio i rifugiati un anno e mezzo fa in realtà tutto è tornato come peggio di prima cioè l'Europa ha eretto ulteriori muri, ulteriori fili spinati e i migranti vengono sempre più confinati in campi di concentramento o nell'Europa stessa o lasciati a marcire in quelli libici o riconsegnati ai campi di concentramento in Turchia dietro l'autocompenso al dittatore Erdogan o riconsegnati al governo di Kabul con l'accordo segreto che è stato stipulato tra l'Unione Europea e quel governo fantoccio qualche mese fa insomma sostanzialmente con questi migranti, questi rifugiati e questi migranti ridotti a carne da macello sia che vengano respinti sia che vengano lasciati ad essere manodopera a basso costo per il sostegno alla concorrenza reciproca delle varie economie nazionali o comunitarie ieri giustamente doveva essere una giornata di protesta contro questa Unione Europea per denunciarne la natura antipopolare, la natura reazionaria per denunciare la sua politica economica neoliberale veramente brutale che ha segnato la politica anche di tutti gli stati negli ultimi 30 anni la debolezza con cui la protesta si è espressa e credo ce l'abbiamo tutti quanti nei nostri occhi perché eravamo là e abbiamo visto sia da un lato le quantità di dimostranti che in piazza sono riusciti a sfidare lo stato d'assedio in cui era stretta la nostra città sia però anche e direi per certi versi soprattutto la qualità della protesta che è stata messa in piazza e cioè una protesta frammentata, divisa tra una timida e balbettante proteste per un'Europa sociale al mattino che ha mobilitato poche migliaia di persone ma soprattutto le ha mobilitate su una piattaforma illusoria pensando che questa Europa possa ritrovare un cammino che probabilmente peraltro non è mai stato il suo neanche al tempo dei primi vagiti appunto 60 anni fa di questa Europa dei padroni che poi ha manifestato in modo più brutale il suo volto negli ultimi decenni e nel pomeriggio abbiamo visto in piazza sempre in modo diciamo frammentato una protesta divisa tra una rivendicazione sovranista presuntamente di sinistra ma molto equivoca che peraltro credo che il calcolo delle presenze in piazza dimostri come la parola d'ordine in sé non sia affatto a sinistra naturalmente purtroppo a destra è pagante sarà pagante anche dal punto di vista elettorale ma questo è un altro discorso che ovviamente va contrastato con altri strumenti però non è una parola d'ordine pagante a sinistra e dall'altro abbiamo visto una protesta movimentista più simpatica ma largamente incapace di influire sulla politica questo è lo stato della nostra sinistra della sinistra in Italia che forse in modo ancora una volta essendo una sinistra all'avanguardia speriamo di no diciamo come è stata una sinistra diciamo all'avanguardia negli anni 70 indicando tante strade importanti di liberazione popolare di liberazione sociale oggi la sinistra italiana indica una strada di frammentazione di indebolimento progressivo progressivo e crescente e una strada di marginalità sempre più netta e marcata non è una sorpresa per noi purtroppo noi speriamo sempre di sbagliarci con le nostre analisi un po' pessimiste sulla situazione della sinistra speriamo in qualche modo in qualche resipiscenza o non solo speriamo cerchiamo anche di lavorarci di lavorarci alla cremente e questo è uno dei nostri pallini delle nostre mission come si usa dire oggi non ci sorprende il fatto che la sinistra quella grande sinistra italiana che ha segnato non solo gli anni 70 per certi versi anche gli anni 80 ma che ha segnato anche i primi anni di questo nuovo secolo quella grande sinistra italiana sociale e popolare ma anche radicale e politica che era oggi è ridotta così noi l'avevamo indicato già esattamente dieci anni fa pochi giorni fa tra i tanti anniversari che ricorrono in questo anno pochi giorni fa abbiamo vissuto senza che nessuno lo ricordasse ma vogliamo cogliere l'occasione qui stamattina per ricordarlo iniziando questa questa assemblea giusto dieci anni fa il compagno Franco Turigliatto in Parlamento al Senato si rifiutava di votare a favore della misura che rifinanziava la guerra in Afghanistan da parte del governo e del Parlamento italiano credo che molti di voi ricordino la vicenda del febbraio marzo del 2007 è una vicenda che diciamo indicava già da un lato il nodo fondamentale che ha portato la sinistra italiana allo stato semicomatoso che vive in questi in questi tempi oramai da dieci anni giusto l'anno dopo la sinistra italiana veniva che aveva invece una sessantina di parlamentari tanto per diciamo simboleggiare con il numero dei parlamentari la sua forza politica diciamo veniva espulsa completamente in tutte le sue sfumature dal Parlamento italiano e da allora in poi è riuscita solo a ripenetrare marginalissimamente nelle istituzioni solo grazie a un'ulteriore subalternità nei confronti di un social liberismo sempre più liberista e sempre meno sociale fino ad approdare al PDR di Renzi che diciamo ha la subalternità con il PDR di Renzi che in qualche occasione la sinistra italiana continua a manifestare alcuni settori della sinistra italiana in particolare continuano a manifestare noi abbiamo indicato già dieci anni fa una via diversa quella fu anche diciamo la occasione fondativa della nostra corrente politica o rifondativa se volete della nostra corrente politica allora il nostro nome era leggermente diverso ma la sostanza era quella del nostro programma del programma che oggi si incarna in sinistra anticapitalista noi oggi vogliamo rilanciare quella nostra battaglia ovviamente concentrando la nostra attenzione sul panorama e sulle questioni dell'Unione Europea a questo proposito come voi sapete abbiamo invitato a questa nostra iniziativa alcuni esponenti di partiti di organizzazioni che con noi condividono i presupposti del programma politico e che danno battaglia con lo stesso spirito internazionalista intervenendo nella politica del proprio paese ora quindi si intervalleranno i compagni ospiti di alcuni altri paesi europei con anche interlocutori e ospiti politici che interverranno nella nostra politici italiani nostrani diciamo così se vogliamo usare questo termine che magari anche questo richiama un po' un certo nazionalismo ma insomma per lo meno provincialismo ma lasciatecelo usare un attimo e diciamo per cercare di mettere insieme una discussione sulla realtà di questa nostra Europa sulla realtà dei paesi dell'Europa in particolar modo dei paesi del sud che si affacciano sul Mediterraneo oltre ovviamente all'Italia dell'Europa 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 dell'Europa